Se il giocatore di League of Legends è più forte di sempre, qual è il tuo segreto? La definiresti una tua conquista o pensi che sia una dote innata che è saputo applicare al videogioco? Credo che non ci sono segreti o scorciatoie, la via per essere, per diventare qualcuno sono due cose che ho bisogno, avere talento all'inizio e lavorare duro dopo. Io mi sono nato per tre anni per 13-14 ore al giorno, tutti i giorni, con talento e lavoro duro, alla fine tutti quanti possono farcela. Poi ovviamente ci sarà chi lavora più duro di altri e verranno visti diversamente da altre persone, ma credo che basta a buona volontà ed è uno dei problemi principali in Italia, per quel motivo non ci sono molti giocatori professionisti. Con quali compagni di squadra? Capociarte. Basta? Mi hai detto con chi mi trovo meglio? Capociarte. E quali sono i tuoi prossimi impegni quelli negli scorsi? Beh, non ci sono qualificati dai mondiali, quindi la nostra prossima competizione sarà a gennaio e prima di gennaio cerchiamo di bootcampare in Korea, probabilmente, e a gennaio lo spirito inizierà verso l'Ubisoft. E niente, vogliamo soltanto non fare i stessi errori di quest'anno e... a andare alla gloria che avevamo l'anno scorso. Grazie. 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 Grazie.